Ciao bimbi, oggi ho pensato di proporvi un laboratorio un po' speciale, è il laboratorio di pittura con il latte. Quello che ci serve è un piatto con all'interno del latte, dei coloranti alimentari che io ho sciolto con un pochino di acqua perché avevo quelli in gelo, ma se avete già quelli liquide non è necessario diluire prima il latte. Una goccia di sapone liquido per i piatti, un cotton fioc e dei fogli di carta bianchi. Adesso prendiamo il nostro colorante alimentare con del contagocce, oppure semplicemente con dei cucchiaini, andiamo ad aggiungere il il nostro colore al latte. Ora lo servete e adesso l'arancione. Una volta terminato prendiamo con il nostro coltono fiocco un pochino di sapone per i piatti e andiamo ad immergerlo nel nostro piatto. Guardate cosa succede, è una magia! guardate che il nostro detersivo con il latte reagisce e fa espandere il colore. Guardate che magia! Se volete con uno stuzzicadini potete andare a muovere i vostri colori per creare delle logie in più più facile. Guardate che è meglio. adesso vi andiamo a prendere il nostro foglio e lo appoggiamo sulla superficie del latte colorato. Ed ecco qui il nostro foglio normalizzato. Ciao! Ciao!